Noi abbiamo notato che già parecchi cittadini vengono a trovarci in sede lamentando bollette stratosferiche per le loro finanze. Consideri che una persona che ha una pensione di 580 euro l'altro giorno è venuta da noi con una bolletta di 415 euro. Ora questa signora deve pagare 200 euro di affitto, deve pagare 415 euro di bolletta di luce ditemi voi come potrà vivere. E a nulla vale le dichiarazioni fatte dal governo nazionale che permetteranno l'addilazione di queste bollette anche perché l'addilazione significa che comunque andranno pagate. Nel momento in cui andranno pagate ricordiamoci che la rateizzazione di questa bolletta andrà a caricarsi sulle future bollette che non è che saranno tanto meno rispetto a queste saranno qualche fine in meno perché il governo sta cercando di trovare una soluzione e mettere del denaro per limitare l'aumento ma l'aumento comunque c'è e ci sarà. Questa è una problematica che nasce nel passato e oggi noi ci ritroviamo in queste condizioni proprio perché non abbiamo mai saputo gestire come nazione principalmente le fonti energetiche per poter produrre energia elettrica. Adesso si parla di fonti energetiche alternative naturali ma non è sicuramente una soluzione immediata per mettersi al pari con quello che saranno i guai dei prossimi mesi? Sicuramente ormai sconteremo questo ritardo e sicuramente ci porteremo dietro per i prossimi anni questa problematica perché anche se oggi si correrà i ripari per esempio il governo regionale sta lavorando per realizzare due termovalorizzatori ma oggi c'è il progetto, oggi c'è l'idea ancora ma anche il progetto quindi il tempo che verranno realizzati ci vorranno sicuramente 5-6 anni se tutto andrà bene e non ci siano i soliti intoppi burocratici, le impugnative in tribunale e via discorrendo comunque in questi anni qualcuno dovrà far fronte a questa problematica dell'energia come ho detto prima il problema nasce in passato perché non si è mai voluto fare una politica seria per l'autonomia energetica di questa nazione grazie